Prima della vendita all'asta viene presentata al pubblico un'opera di Vincent van Gogh, dipinta durante la sua breve permanenza a Parigi. Si tratta di uno scorcio del quartiere parigino di Montmartre. La tela è appartenuta per un secolo alla stessa famiglia. L'opera, uno dei maggiori lavori del periodo parigino dell'artista olandese, verrà messa all'asta marzo da Sotheby's per un importo stimato tra i 5 e gli 8 milioni di euro. E' una testimonianza molto interessante di quello che era Montmartre alla fine del XIX secolo. Scopriamo una Montmartre bucolica, molto apprezzata dai parigini, spiega un esperto di Sotheby's. Secondo la famiglia questo dipinto è sempre stato appeso al muro dell'ufficio del nonno, quindi è una bella storia nel senso che è un dipinto che hanno visto durante tutta la loro vita. Scena di strada a Montmartre, questo è il titolo del quadro di Van Gogh, di cui è nota soprattutto la produzione realizzata da Arles nel sud della Francia.